I fondi a disposizione ci sono e sono anche molti, ma bisogna essere in grado di sfruttare le molteplici occasioni. Non usa giri di parole il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Enrico Zanetti, ultimo ospite della Borsa della Ricerca for Sud, di scena presso l'Università di Salerno. Nella programmazione europea 2007-2013 la cifra a disposizione corrispondeva a circa 60 miliardi. Adesso abbiamo a disposizione ben 110 miliardi. I soldi devono essere spesi per progetti ragionevoli, mirati soprattutto alla crescita delle infrastrutture materiali e immateriali. Il Sud quindi per ripartire deve far muovere persone, merci e dati. Lo Stato in questo caso come viene in aiuto? Lo Stato viene in aiuto insieme alle regioni se è in grado di fare in modo che le risorse che ci sono, e che sono molte, perché questo è incredibile, le risorse a disposizione sono molte, vengano davvero spese. Noi usciamo da una pianificazione dei fondi europei 2007-2013, che non può certo essere considerata una best practice. Entriamo adesso nella fase 2014-2020 e di fatto è da qui al 2018 che si getteranno le basi perché questa pianificazione venga usata in modo adeguato. Stiamo parlando tra fondi europei, fondi di coesione nazionale, cofinanziamenti di circa 110 miliardi, che ci sono, non è che devono ancora essere stanziati, che ci sono. Questa volta devono essere spesi per un numero di progetti ragionevoli e non a pioggia, mirati anzitutto alla crescita delle infrastrutture materiali e immateriali perché il Sud per ripartire e la sua economia ha bisogno che ci si possa muovere, persone, merci, dati e poi investire appunto in eventi come questo che hanno come obiettivo creare interconnessioni. Cos'altro può chiedere quindi anche l'Università di Salerno allo Stato per garantire un futuro solido anche a quelli che sono i futuri lavoratori? L'Università di Salerno deve chiedere attenzione rispetto a quello che è il patrimonio unico della regione Campania. In regione Campania non esiste altro patrimonio che non siano i giovani. Noi siamo la regione più giovane d'Italia. Noi giovani devono vedere che c'è attenzione rispetto al merito, che c'è attenzione rispetto alla trasparenza amministrativa, che c'è attenzione rispetto a come vengono distribuite le risorse, che c'è attenzione a partire dalla scuola e quindi alla loro formazione e quindi il passaggio per l'Università. Quindi noi crediamo che, diciamo, senza urlare perché non fa parte del nostro modo di essere, ma con determinazione, noi vogliamo semplicemente che il merito e quello che ha fatto l'Atene in questi anni si evidenzi. Grazie a tutti.